Napoli, Napoli non molla, Napoli, Napoli non molla. Sono Michele Embriano, operaio della Scamina Mediterranea. Noi facciamo al 100% pezzi per ruir con Napoli. Siamo in solidarietà da due anni e ci dovrebbe scadere il febbraio 2020. Noi siamo fermi dal 12 settembre, la situazione è questa. Siamo fermi da 12 settembre e non stiamo facendo niente. Questo è. Noi sono della Cata Antonello, sono RSU della Comap Sud SRL, un'altra azienda in gruppo della Urquil di Napoli. In pratica noi siamo in una situazione particolare perché la nostra azienda lavora quasi interamente con la Urquil di Napoli. Purtroppo abbiamo già terminato tutti gli ammortizzatori sociali e siamo in un accordo di sospensione dell'orario di lavoro in pratica al fine di evitare i licenziamenti stiamo percependo quasi uno stipendio, quasi nulla. E questo al fine di aspettare che ci sia qualche risvolto positivo per la renda alla pertenza del lavoro. Volevo ribadire, noi siamo in solidarietà, 12 giorni vengono retribuiti, altri 9 sono permessi non retribuiti. Napolino bolla, Napoli, Napoli, Napoli non bolla!